Buongiorno, oggi facciamo la morning routine insieme perché mia sorella me l'ha affidata Quindi vi porto con me Vi devo fare vedere l'outfit raga perché spacca Allora sdraghiata, non ci vuole stare, quindi ve la faccio vedere così È tutta abbinata, tutta rosina con la fascina Sbrudulita Ha già il pennello in mano, mi sa che diventerà una make up artist Mi trucchi? Ma, mi trucchi? Mi trucchi? Cosa facciamo Gisi? Cambiamo il panorino? Non sei d'accordo, vero? Però dobbiamo farlo comunque Andiamo! Allora, vediamo dentro alla borsa cosa c'è Prendiamo questo Vabbè, non ti agitare però Stendiamo questo Ma ti sei tolta i calzini? Ma Ti sei tolta i calzini? Sei pronta a cambiare il panorino con Giaurix? Sei pronta? Sei pronta? Sei pronta? Sì, io non No 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 No